Previsioni meteo per venerdì 8 dicembre, al nord neve ad alta quota, su Piemonte, Lombardia, Friuli, Alto Adige, piogge su tutto il versante orientale, rovesci temporaleschi sull'alta Toscana, al centro nuvoloso su tutto il centro Italia, peggioramenti in serata, neve ad alta quota in Abruzzo, al sud nuvoloso su Campania e Sardegna con qualche piovasco, tempo soleggiato sulle altre regioni, venti moderati da ovest, mari mossi o molto mossi, temperature stazionarie.